Siete curiosi, di scoprire cosa riserverà l'episodio 226, della promessa in onda oggi sul canale spagnolo? Allora siete nel posto giusto! Oggi vi condurremo in un viaggio avvincente, attraverso il cuore pulsante della serie tv di Successo la promessa. Sveleremo anticipazioni esclusive, per l'episodio 226, in cui i travestimenti e gli amori segreti si intrecciano, in un intricato mondo di emozioni e sorprese. Cosa nasconde l'intricato mondo dei travestimenti e degli amori segreti? Continuate a guardare per svelare tutti i segreti di questa avvincente serie. Nella sontuosa festa in maschera, Gianna e Maria si stanno divertendo come mai prima d'ora. Tuttavia, un inaspettato cambio negli abiti di Manuel e Abel da vita ha un'esplosione di misteri e chiacchiere che presto circonda il marchesino, trasformandolo nel protagonista indiscusso delle conversazioni del giorno successivo. Manuel, stanco di tutto il caos e dei pettegolezzi, decide di prendere una decisione drastica, sale a bordo del suo aereo privato e spicca il volo, cercando disperatamente un po' di distanza da tutto. Se siete appassionati di serie tv, e volete rimanere sempre aggiornati sulla promessa non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, per non perdere neanche un aggiornamento. Cercando disperatamente un po' di distanza da tutto. Ma la sua fuga non avverrà da solo. Alla festa in maschera, le sorprese si susseguono con Gianna e Maria Fern che si infiltrano tra gli invitati travestite, mentre Abel e Manuel scambiano i loro abiti nello stesso istante, dando il via a una serie di eventi straordinari. La tensione raggiunge il suo apice quando Margarita critica apertamente Cruz, mettendo in imbarazzo tutti i presenti, e Catalina fa una sorprendente rivelazione. Si è innamorata perdutamente di Pelaio. Nel frattempo, un atto apparentemente insignificante cattura l'attenzione di tutti. Curro sorprende Ramona mentre legge una misteriosa lettera, la strappa dalle sue mani e la getta nel fuoco. Questo gesto, in apparenza impulsivo, nasconde la distruzione dell'ultima prova che confermerebbe che Alonso è il padre del ragazzo. Manuel, dopo la festa in maschera, farà valere la sua presenza, e deciderà di fuggire a bordo del suo aereo personale. Ma, come vi avevamo anticipato, non sarà da solo in questa avventura, più 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 più. Nell'episodio in questione, Catalina e Pelaio tolgono le maschere, per dichiarare apertamente il loro amore. La festa in maschera si anima, e Maria Fernandez diventa la regina indiscussa della pista da ballo. Con l'aiuto di un bicchiere di vino, non esita a chiedere alla Marchesa stessa di ballare, nascondendo abilmente la sua vera identità, di semplice cameriera. Ma non è l'unica a sfruttare l'anonimato dei travestimenti per avvicinamenti clandestini. In questa intricata situazione, Manuel e Gianna si trovano nel mezzo di un malinteso colossale. Dopo essersi scambiati i costumi, tutti credono che lui sia Abel, e il vero Abel, scambiato per Manuel, passa la notte a ballare con una misteriosa ragazza. Questo intrigo segreto diventa rapidamente oggetto di conversazione per tutti. Tanto Cruz quanto Jimena rimproverano Manuel, per dedicare tante attenzioni a una misteriosa donna, pur essendo sposato. Il marchesino, tuttavia, decide di giocare con la situazione, provocando una gelosia esplosiva, sia in Jimena che in Gianna. Gianna, dal canto suo, si sente a disagio per l'atteggiamento di Abel nei confronti dell'enigmatica ragazza, ma non può biasimarlo troppo, visto che lei stessa ha una cotta per Manuel. Nel frattempo, il giovane gentiluomo, stanco delle complicazioni con sua moglie e sua madre, decide di prendere una decisione drastica. Lascia la promessa a bordo del suo aereo. Ma non lo fa da solo, è accompagnato da Gianna. Dall'altra parte, Abel deve anche egli abbandonare improvvisamente il palazzo dopo essere stato chiamato ad assistere, le vittime di un incendio a Cordova. Nel frattempo, Mauro ammette a Romolo, di aver gestito in modo disastroso la situazione alla festa in maschera. Il cameriere, soprafatto dall'ansia, trova la forza di rispondere alla lettera di Antonio Simona. Tuttavia, non può immaginare la difficoltà emotiva, di affrontare i tanti anni di allontanamento. Nel frattempo, la disperazione prende il sopravvento nella dimora della Marchesa, poiché Manuel, sembra essere sparito nel nulla, e nessuno sa dove si trovi o con chi sia. Tuttavia, la scoperta di un misterioso biglietto, lascerà tutti senza parole, rivelando i motivi della sua assenza, e il nome della persona che ha spinto il Marchesino a lasciare la promessa, scatenando l'ira della Marchesa. Nel bel mezzo di tutto questo caos, il Marchesino e Gianna, si ritrovano su una spiaggia paradisiaca, lontani da tutto, pronti a conoscersi e a donarsi l'uno all'altra. Simona, si trova in un vero e proprio blocco, nella scrittura della lettera destinata a suo figlio, un ostacolo, che sembra insormontabile. Candela, consapevole dell'importanza di questo messaggio, decide di cercare aiuto da Lope, per convincere Simona a scrivere, finalmente ad Antonio. Dando inizio a una catena di eventi, che potrebbe sconvolgere il destino dei personaggi. Nel frattempo, Romulo continua a tenere le sue lezioni a Mauro, ma è durante il corso delle lezioni che il cameriere fa una scoperta sconcertante, svela il terribile segreto nascosto dal maggiordomo dei Luian. La festa in costume, dunque, si rivela un vero e proprio catalizzatore di rivelazioni inaspettate, che porteranno ad un inevitabile sconvolgimento, nella trama della serie. Ma non è tutto. Il marchese, in seguito alla festa in maschera, si congratula Mauro e Romulo per il loro lavoro, ma sembra non essere soddisfatto della qualità del meno servito, suscitando l'irritazione di Simona e Candela. Questo fa emergere ulteriori tensioni, all'interno del castello. Nel frattempo, Donna Pia annuncia una novità entusiasmante. Presto porterà un liuto alla promessa, offrendo a tutti la possibilità di godere di un momento di svago. Tuttavia, non tutti sembrano felici di questa notizia, e Petra sembra avere dei dubbi. Prima di scoprire il resto del racconto, volevamo sapere se siete fan accaniti di serie TV, e non potete fare a meno degli spoiler? Bene, siete nel posto giusto. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi di La Promessa e di molte altre serie. Scrivetelo, nei commenti, la vostra voce è importante per noi, e insieme possiamo esplorare ogni dettaglio di questo coinvolgente mondo seriale. Nel ricco mondo di La Promessa i personaggi sono al centro di una serie di avvenimenti intriganti che tengono gli spettatori incollati allo schermo. Ecco cosa accade tra alcuni di loro. Margarita e Taddeo, due personaggi inaspettatamente affiatati, emergono come una coppia con una chimica straordinaria. La loro connessione sorprendente potrebbe portare a ulteriori sviluppi nella trama, introducendo nuovi elementi nella storia e influenzando le dinamiche dei personaggi. Nel frattempo, Catalina e Pelayo si dedicano a una missione apparentemente comune, preparare un nuovo ordine di marmellate. Tuttavia, dietro questo compito apparentemente banale potrebbero nascondersi implicazioni inattese. Le azioni di Catalina e Pelayo potrebbero gettare luce su nuovi aspetti della trama e contribuire a intrecciare le storie dei personaggi in modi che non ci si aspetta. La trama si fa ancora più complessa quando Ramona, un personaggio chiave, prende una decisione radicale. Decide di abbandonare la promessa per tornare dal suo figlio. Tuttavia, Curro, consapevole dell'importanza di un addio rispettoso, la prega di attendere il ritorno di Giana per poterla salutare in modo appropriato. Questo conflitto di emozioni e desideri crea una tensione palpabile all'interno della storia, che potrebbe avere conseguenze significative. L'assenza di Manuel, uno dei protagonisti, e una telefonata disperata di Gimena, sua moglie, alimentano il mistero. Gimena è furiosa e frustrata, incapace di immaginare cosa stia accadendo. La rivelazione che suo marito sta vivendo una storia d'amore con la cameriera in una località remota getta ulteriori ombre sulle relazioni tra i personaggi e sul futuro della trama. Ogni relazione e ogni decisione dei personaggi contribuiscono a plasmare la trama complessiva di La Promessa. Gli spettatori sono in attesa di scoprire come questi eventi interagiranno e si rifletteranno nel prosieguo della storia. La tensione raggiunge il suo culmine quando la duchessa degli Infantes fa il suo ingresso alla promessa, chiedendo spiegazioni in merito alla grave umiliazione subita da sua figlia. L'episodio promette di svelare ulteriori colpi di scena e momenti di grande tensione che influenzeranno profondamente la trama. Le anticipazioni delle puntate spagnole si fermano qui, ma come avete potuto vedere, la trama di La Promessa si fa sempre più appassionante e intricata. Vi invitiamo quindi a iscrivervi al canale per non perdere nulla di questa avvincente storia. E scopriamo nel prossimo video, cosa fanno i due innamorati, da soli sulla spiaggia, se vuoi vederlo? Scrivi nei commenti se lo voglio.